Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Di che cosa si parla? Si parla di una civiltà umana costretta a vivere isolata a causa dell'innalzamento delle acque e noi ci occuperemo del faro, ci occuperemo di far sopravvivere la gente. Una meccanica di gioco comunque già vista, poi adesso vedremo. Il gioco ha la modalità scoring, dove si fa il punteggio migliore, credo, però mi dice sia questa che la sandbox, che è quella libera, di finire prima la storia, quindi noi giochiamo la storia. Cerchiamo di capirci qualcosa e vediamo. Allora, a Fresh Start la facciamo... Easy. Giusto per farvi vedere... No, facciamo la normale. Fresh Start e poi abbiamo i vari capitoli di gioco. Noi iniziamo con quello. Ok, quando esce questo simbolino qui, il gioco sta salvando, quindi non spegnere il computer, giustamente. Ok, questa è, devo dire, un intro che sembra carina, anche come disegni. Lo stiamo provando per la prima volta insieme, perché vogliamo sperimentare. Un po' come faccio ogni tanto in live. Questo è il faro. È disegnata veramente bene. Ah, giorno 1. Un nuovo giorno inizia. Ok, eccoci qua. Tutto quello di cui tu hai bisogno per iniziare il tuo viaggio. Di sapere, insomma, bisogna di sapere. Conferma. Il mio fare è un casino. Il tempo atmosferico e le costanti catastrofe continuano a distruggere qualsiasi cosa che io stia tentando di costruire. Che vita. In ogni caso, non c'è niente da fare, dobbiamo ricostruire, ma sono troppo vecchio per questo. Ok, questa è una meccanica già vista, ma non mi ricordo di che gioco, mannaggia. Buongiorno, esce questa volpe umana, vi ho detto, civiltà umana in realtà è di fantasia. Buongiorno, guardiano. Sto aspettando la prossima caravana. Caravana, fammi sapere se posso aiutarti nel frattempo. Ah, sei qui. Sì, ok. Va bene. Ah, ci fa vedere anche com'è all'interno. Ok. Che devo fare? Premo spazio. Ok. Dovevo iniziare pulendo i detriti. Sì, perché diceva che ha subito molti danni dall'attacco atmosferico, insomma, dagli eventi atmosferici. Abbiamo bisogno di riciclare questo legno. Posso prendermene cuna? Fammi sapere dove andare. Quindi cosa devo fare? Clicco su Elmer. Ah, qua in alto abbiamo le risorse. E devo dirgli di ripulire Greenhouse, Woodcutter, Cabin. No? Che devo fare? Clear a building. Ah, dobbiamo pulire questo. Ok. Rimuoverò i detriti. Dovrebbe essere fatto per oggi pomeriggio. Ah, turni quindi. Ok, praticamente sta dicendo che comunque il lavoro, ogni attività lo rende esausto. Gli abbassa il morale e quando raggiunge lo zero deve riposarsi. Ok. Intanto lui è così felice, vedete, di ripulire. Intanto sta uscendo anche Evelyn. Vedo che è ancora in piedi il faro. Se mi assegni adesso ti raccoglierò cibo. Buona idea produrre survival 101. Non so cosa voglio dire. Se qualcuno lo sa me lo dica. Allora, praticamente, Evelyn, posso dire di riprodurre cibo ma non capisco come. Allora, posso assegnare effetti. Ah, ok, lei ha... Ah, quando... Neutral, Optimist... Ok. Non sarà da capire anche questo. Perché lei ha una neutral? Sì. Non ha richieste. Ah, ok, specie scoiattolo. Ok, brava con... Ok. Work. Ah, posso assegnarla così. Ok. No, 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 no. Qui. Scusami, io clicco su Evelyn. Gli dico lavora. Ah, può fare qua. Ok, va nella greenhouse. Ok. Sarà pronto per la fine della mattinata. La produzione delle risorse dipende da molti fattori. Il morale... Ehm... Il tempo atmosferico e così via. Va bene. Sembra che tutti siano impegnati. È tempo di muovermi nella nuova fase del gioco. Praticamente ci muoviamo con Buzz, con le frecce. Q&A si ingrandisce. Perfetto. Sì. Molto bene. E praticamente qua abbiamo vari momenti della giornata. La mattina. Allora, abbiamo l'alba. La mattina. Il tramonto. E la notte. E qua abbiamo il tempo atmosferico. Come cambierà. Quindi dovremmo farci trovare pronti qualora dovesse salire la marea, dovesse peggiorare qualcosa. Allora, più che altro perché mi sta facendo vedere anche questo bellissimo fondale quando il gioco si focalizza qui. Qua mi incuriosisce molto. Comunque, qua abbiamo le risorse. Abbiamo un più 28 perché abbiamo messo qualcuno a lavorare qua. Intanto qua stiamo costruendo. Quindi passiamo. Ok, abbiamo recuperato delle gname. Ne abbiamo un po' troppo in realtà. È il tramonto adesso. Ok, e qua ci dà l'evoluzione del morale. Ok, come succedeva anche sul minigioco di... Mi viene in mente Yakuza, però... Dopo lavoro è ora di riposarsi. Non c'è niente di meglio che un buon pasto per migliorare. Ok. Ok, mangiamo... Riempiamo il calderone. Tieni un occhio sulle riserve di cibo. È meglio avere comunque cibo extra. Un pasto vario ci dà differenti bonus. Ricorda di mixare i tuoi ingredienti e le quantità. Il flusso, il livello dell'acqua è... Ok. Fist. Boh. Puoi riempire... Ok. Con diverse cose in storia. Eh sì, è quello che ci ho appena detto. Sarà influenzato il morale da questo. Ok. Quindi io posso... Eh, non è che ho molto da... Qua è un po'... Qua è un po'... È un po'... Sixti seconds mixato a Urtales. Mamma mia quanto, no? Scusate ragazzi, ma io... Ok, ve ne darei anche due. Vedete che gli cambia un po' il morale, però... Ma sì, dai. Eh, eh, quindi? Come on, fill the pot. Eh, eh, quindi? Cosa vuol dire fill the pot? Non riesco a capire... Ah, le ricette... Ma non conosco nessuna ricetta, io. Al momento. Vi faccio così? Come on, fill the... Vabbè, riempi. Ah, devo riempirlo del tutto. Ah, vuole che lo faccia così. Ok, non posso già iniziare ad amministrare, ok. Produzione di cibo più 5, che era più semplice di quello che pensassi. Non volevo dargli tutto quel cibo subito, ma va bene. Il tutorial, il tutorial. Procediamo alla prossima mattina, ok. Ok. Ok, il fuoco, questo fuoco è la chiave della nostra sopravvivenza. Ok, se non ci vedono i viaggiatori diventeremo isolati dal mondo, ok. Ogni giorno il meteo avrà vari gradi di impatto sulla fiamma. Devi mantenere... Possiamo mantenere il fuoco dandogli del combustibile. Tuttavia, gli oggetti usati per carburante sono anche materiali che sono richiesti per la costruzione del villaggio. In futuro, diciamo, avrà sicuramente delle difficoltà, difficili scelte per noi. Per ora, tuttavia, abbiamo abbastanza cibo per... Abbastanza legno per tenere accesa la fiamma, ok. Puoi fiddare, alimentare il fuoco con gli item che hai nello storage. E possono essere usati come carburante. Quindi abbiamo, sì, legno, le botti e varie cose. Combustibile, insomma, vai. Ok. Più... Ah, ok. Più forte è il fuoco, più veloce troveranno... Gli altri troveranno il faro. E al momento abbiamo questo. Quindi io adesso siamo nella notte, quindi io posso andare a mettergli del... Ah, scusami. Eh sì, eh sì, dovrebbe aumentare. Va bene. Perfetto. E qua posso muovere. Perché di qua dovremmo avere... Ok, abbiamo anche una sorta di... Era un po' anche come Seafire, Spiritfire, mi pare si chiamasse il gioco. Adesso mi viene in mente. Comunque è notte e dobbiamo andare alla mattina. Quindi giorno 2, nuovo giorno comincia. Molto bella l'atmosfera. E anche un po' farò spank come gestire nella città, molto più easy. Molto meno pressivo. Però... Allora, questo viaggiatore non ha richieste, non ha richieste. Quindi abbiamo Evelyn e Elmer. Il tempo è foggy, quindi nebbioso. E abbiamo queste risorse. Ok. I nostri prossimi viaggiatori sono lontani di qualche giorno. Quindi non arriveranno oggi. Diamo i compiti della giornata. Ok. Ci sto facendo vedere. Poi sicuramente andando avanti non ci prenderà più per mano il gioco. Ma ci lascerà andare avanti. Abbiamo del vento verso sera, credo. No, il giorno 4, scusate. Oggi abbiamo nebbia. Nuvoloso invece domani. E il giorno 4 avremo del vento. Quindi magari il gioco ci farà sfruttare qualcosa per il vento, non so. Allora, procedi alla mattina. Eh, è la mattina? La mattina? Ah, non va bene questo. Non posso fare niente. Voglio vedere una cosa però. Nei due personaggi, loro hanno cambiato il morale in Satisfied. Quindi, Satisfied. Ah, ok. Dovrebbe produrre di più. Ok. Andiamo avanti. Si aprono le ante. Bellissimo. C'è una cura comunque dei dettagli che non è assolutamente male. Se posso darti un consiglio? Non hai idea della produzione del legno? Devi prendertene cura. Buona idea. Noi viaggiatori stiamo cercando posti dove prendere rifugio ai nostri viaggi. Noi arriviamo con skill differenti. Prova a usarle come meglio per te. Quindi non è gente che abita qui. Let's build a wood cabin. Ok. Quindi dobbiamo costruire una woodcutter cabin. ma sarebbe carino capire come fare perché non c'è la costruzione. Woodcutters cabin. Ah, ok. Buildings. Lui può costruire. Ah, ok. Lui può costruire. Ah, eccolo qua. Ma scusami, se io clicco su di lei non ce l'ha invece. Eh no, c'è solo lui adesso. Woodcutter cabin o greenhouse? Greenhouse ce l'abbiamo già. Quindi facciamo la woodcutter cabin. Non la posso mettere sopra. Non la la devo mettere qua sotto. Dai, la costruiamo. Dieci di legno ci serve. Got it. E la farà per il pomeriggio. Lei invece è in grado di coltivare. È pronta per un'assegnazione. Quindi lei può lavorare a produrre vegetables. Quindi produrne 30. Dovrebbe finire per l'ora di cena. Ok. Procede la prossima mattina addirittura. Passiamo tutto il giorno. E intanto qua sta producendo. Qua abbiamo costruito. E ci ritroviamo nuovamente intorno al fuoco. Molto, molto, molto carino è il gioco. Devo dire. Allora, il morale. E l'impatto che hanno col lavoro. A. Non ha forza. E riposerà in automatico. È esausto con B. Devi dargli un buon pasto. C. È in buona condizione. Lo farà sentire ancora meglio un buon pasto. Il D. È soddisfatto. Migliorerà la sua produzione. E è proprio felicissimo. E avrà un grandissimo aumento di performance. È tempo di tornare in strada. Dovrei essere... Torna in strada. Ok. Quindi dovrebbe tornare col prossimo convoglio. Grazie per il tuo aiuto. Sei sempre venuto. Abbi un buon viaggio. Quindi non mangi stasera. No, vabbè. Abbiamo un cibo qua. Ah, ok. Quello che ci produce più legno. Ok. Perché l'altro non abbiamo. Quindi io vi darei... Un cibo solo. No, vuole che lo riempia del tutto. Ma proprio per forza, eh. Non posso mediare. Va bene, dai, andiamo avanti. Andiamo alla fine. Il fuoco è molto potente. Nessuno lo... Può non vederlo. Potrebbe essere intelligente salvare un po' di carburante. Infatti non mettiamo niente. Ok. Procede la prossima mattina. E andiamo avanti. I viaggiatori non hanno richieste. Un convoglio è arrivato come pianificato. I viaggiatori cercano un riposo, rifugio, un pasto per restare qui per qualche giorno. Diamo il benvenuto, i nuovi. Ok. Sono arrivati. Sono sbarcati qui. Con la partenza di Elmer abbiamo due spazi disponibili. Chi sono i nuovi visitatori? Ok. Sono arrivati questi. Sì, posso prenderli entrambi. Uno in grado. Bellissimo perché arrivano e vanno via. E quando arrivano sanno fare determinate cose. Quindi questo qui può fare, può produrre un terraio dei vermi e una casa. Quest'altro invece può fare un magazzino e una casa. Ok. E li prendiamo entrambi per forza. Bella, mi piace tantissimo sta cosa. Andiamo alla mattina. Ciao, ciao. Quindi abbiamo tre posti in totale. Lui se ne va. È arrivato proprio con la carovana. Sì, se ne sta andando il convoglio. Ogni viaggiatore sta per un tempo predefinito che dovrebbe essere qua. O sì, qui, credo, qua. Non lo so. Ah, ok. Vediamo un po' se me lo dice sì questo qua. Ok. Loro continueranno ad aiutare fino a che la carovana raggiungerà. Ok. Ah, ok. Ogni comodità di cui sarà privato darà dei malus. Se la nuova, la comoda ci hanno costruita prima della loro partenza, staranno in automatico. Questa non l'ho capita. Ah, ok. Non vanno via sempre. Rimangono. Ma se non sono soddisfatti se ne vanno. Ok, ok. Poi magari sarà anche possibile mandarli via. Non lo so. Molto carino. In questo qua ci potrebbe anche stare in live. Vi dico la verità. Potrebbe essere carino. Ok, ma è la voglia di fare nuove ricette. Vediamo. Ok. E quindi? Costruisce un terrario. Ok. Quindi bianca, sa fare il terrario. Quindi costruisci un terrario. Qua. Perfetto. Che è piccolino questo. Ok. Tutte le specie hanno il loro bonus. Noi... Ok. Gli scoiati li producono più cibo di chiunque altro. Perfetto. Perfetto. Allora. Adesso. Produce wood. Sì, perché in pratica... Vediamo un po'. È tutto pilotato qua, ovviamente. Perché lui è in grado di produrre legna. Quindi io posso metterlo a lavorare. Perché lì? No, no. Fermi, fermi, fermi. Morgan. Può lavorare lì. Ma voglio capire perché. Lo metto a produrre legna. E questo qui invece lo faccio a produrre vegetali. Perfetto. Il mondo di Diluvian Wins ha diverse specie. Ogni specie ha le sue features. Hanno le loro rispettive conoscenze. E gli danno la possibilità di costruire edifici diversi. Sono anche specializzate nella produzione di certi tipi di risorse. Ok. Interessante. Ok, procediamo la prossima mattina. Allora, addirittura si va avanti. Ok, infatti vedete che qua ha prodotto cibo. Siamo anche over. Dovremmo fare un magazzino. E abbiamo tutte le persone adesso qua. Sarà da capire se potremo avere più persone. Non avremo sempre tre. No, beh, ma ho visto prima che avevamo più case. Quindi se ne possono fare di più. È molto bella questo modo di procedere a turni. Ok, no. Posso dargli meno cibo. Era solo prima che mi voleva far riempire il calderone al massimo per far andare tutto bene. Ok. Allora, direi che qui abbiamo bisogno di un po' di legna. È molto forte. Quindi ci aggiungiamo solo uno. E ok, andiamo avanti. Allora, devo dire che il gioco non è assolutamente male. Ok, abbiamo... Ah, praticamente è un faro. Ma questa qua è una carovana che va sull'acqua? Sta arrivando pian piano. Boh. Non ho capito. Perché la carovana arriva. Vediamo un po' cosa vuole questo. Alla delle richieste. Ok. Come potrei essere più utile per la comunità? Mi serve legno. Perfetto. No, voglio capire perché non arrivano dal mare, quindi. O anche. Però qua si parla di carovana su terra. Infatti andando in lontananza arrivano. Boh, sarà da vedere. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Perché questo gioco è veramente intrigantissimo. Nella su Steam ha delle recensioni nella media. E non so il perché, ma devo dire che è veramente figo. Lo andremo avanti. Magari lo porteremo avanti in live. Fatemi sapere intanto che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!